buon salve a tutti ragazzi benvenuti in questo corto nuovo video e oggi non vi farò vedere niente però voglio dirvi soltanto una cosa che nei prossimi giorni o mesi o forse anni no anni no però nei prossimi mesi penso che non farò video perchè praticamente come potete vedere il mio nome è stato cambiato con Federico Ferreri e per sbaglio l'ho cambiato io perchè in pratica è successo che l'app cioè ci sta un'app che si chiama Ingress che consiglio a tutti è veramente figo io ho scelto questo account per giocare al gioco e mi ha detto che non andava bene Feminum perchè non era reale e allora per sbaglio l'ho cambiato adesso non so più come cambiarlo perciò ragazzi non so che caspita ho fatto adesso sto cercando in tutti i modi di cambiare un'altra volta il nome ma non so come si fa sto riuscendo soltanto a cambiare ogni volta la password dell'account però non riesco a cambiare il nome cioè ho messo persino l'immagine che non sapevo come si faceva però non sono riuscito a cambiare il nome guardatelo e adesso proverò in tutti i modi a cambiare il nome e quindi per un paio di giorni o forse mesi se non riesco a cambiare questo nome il mio non potrò fare video perciò ragazzi non mi vedrete per un bel po' di tempo per quelli che mi seguono a proposito un'altra cosa molti mi dicono che non sono tanto bravo a fare i video beh si attaccassero perchè io non li faccio al computer e poi il video precedente mi è venuto veramente male perchè quello dell'elio perchè praticamente quel palloncino aveva l'elio fino diciamo molto leggero e quindi non faccia tutta sta voce sembravano finte le voci però erano vere erano modificate e quindi per quelli che dicono che non sono bravo è perchè in pratica e quindi ora posso scaricarmi alcune app che fanno gli effetti speciali sperando che la trovo e che non sia pagamento perciò ragazzi perciò dicevano tutti quelli che mi che che dicono che non faccio bei video è perchè io li faccio sul telefono e non ho gli effetti giusti adesso infatti vado a cercare e poi e poi in pratica quindi come vi ho detto non farò dei video per un paio di giorni perchè 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 il mio nome l'ho cambiato per sbaglio con Federico Ferreri mio e quindi poi e vi consiglio anche ingress l'app però fate un nuovo account per quello sennò se cambiate il nome è un casino e chi lo sa o semmai me lo può scrivere sui commenti per chi segue i miei video e ragazzi vi prego chi conosce questo mio si cioè si questo mio account se può passare voce anche se faccio video brutti perchè li faccio sul telefono e quindi questo è tutto quindi non mi vedrete per un bel po' sto legato di ingress e non farò un po' di video per colpa di questo nome e chi lo sa lo può scrivere sui commenti questo video è finito al prossimo video alla prossima grazie